Ciao a tutti ciotti e benvenuti in questo nuovo episodio del tesoro dei niran o dei narin Non mi ricordo come si chiama magari qua c'è scritto aspetta narin ma io dirò niran perché fotte sega Non serve a niente le bistecche ma le prendo lo stesso perché sono pro player Allora checkpoint lo premo 3000 volte e vi faccio vedere anche che ho la maglietta easy pizina mosquisi oggi ma che è bellissima E che sarà anche in vendita tra l'altro a milano allora Siamo in un labirinto e nel labirinto di solito Uno deve perdersi Ci sono tre vie io direi che andiamo a caso E vediamo Però bisogna anche capire dove siamo venuti vero? No ma io ho un buon senso dell'orientamento Io ho un buon senso dell'orientamento Orientamento Porca Eva cos'è sto posto E sto andato indietro Oh madonna No aspetta Io ho appena realizzato una cosa Non posso piazzarli Non posso piazzarli ma perché mi dai dei bistecchi Perché mi dai cartelli se mi metti poi in adventure mod E c'ho 80 fail Te lo droppo Fanculo Droppalo Sto mettendo i cartelli dove so che non porta a nessuna parte Però devo dire che E' fatto piuttosto bene questo labirinto Dannatamente bene Li odio i labirinti Sesto coso Ma qua è dove ero prima No non è vero Ci sono quasi me lo sento Mi sono perso Mi sono perso tantissimo E' riuscita? No qua è dove ero prima Ma no ma qua ci sono già passato Oh mio dio Sono tutti uguali questi corridoi Sto girando in tondo Sto girando in tondo me lo sento tantissimo No Io l'odio sta mappa L'odio sta mappa Scorsi episodio mezz'ora di fail a fare parkour Oh Qua non ci sono mai stato Prima di andare a destra Siamo sembrati a sinistra Andiamo a destra Ma no ma qua è dove eravamo prima A destra A destra No qua c'è Droppa Si 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 Manco 5 minuti Ok forse sono tantini Ok Allora Senti degli strani rumori dietro questa porta Magari sono vicini i narin Ehm Ci sono dei consigli Allora Oh Non appena dentro della stanza devo fare 15 lingotti di ferro Poi sotto ogni cesta c'è una fornace con un pezzo Di aereonora Mette il carbone nelle fornace Ok Ehm Buongiorno Eh no Non posso manco colpirli Non posso Non mi fa andare Ehm Vabbè Non c'era il checkpoint Non c'era il checkpoint Non c'era il checkpoint Aspetta fammi tornare indietro Non c'era il checkpoint Scusi Per favore Non c'era il checkpoint Ah Cos'è Cos'è Vai avanti Vai avanti No 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 Via Via Non vi conosco Cos'è tutto sto buio Non si capisce un kaiser Sì ma dammi il checkpoint prima E se muoio Iniziamo a mettere Ah Madonna Mi è avuto un colpo di figurati se dovevo ritrovare l'entrata Perfetto Mi sto preparando al peggio Cioè al fatto che questi cagni bastardi mi uccideranno al minimo 20.000 volte Guarda Sono già 81 fail Allora divido il col Nell'inventario In modo che sia semplice poi fare In questo modo Veloce 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 Sì ma perché diventi buio madonna Non è che se non diventi buio non è difficile Veloce Veloce Via Via Non ti conosco Non so chi sei Merda Ma il bello è che non so manco dove sono tutte Tutte Questa non l'hai presa Questa non l'hai presa Questa non l'hai presa Non l'hai presa ma non riesci a prenderla perché è sotto la cesta Quanto deve essere strutto per fare una mappa del genere Davvero ti devi drogare in qualche modo O essere psicolabile almeno Ecco 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 di qua mi fa andare Di qua mi fa andare Ma va beh cos'è Va beh Va beh va beh Va beh Fai tutto semplice Te Ma in realtà semplice No non lo è Devo andare di là Devo andare di là Ma quello se mi prende Mi ha preso Preso Allora allora Andiamo per step Andiamo per step Andiamo per step Dice un cane Ok non c'è in questa serie step Però hai capito il senso Un cane Io come cazzo li prendo 15 lingotti Signori e signori qua io La vedo solo come un Grandissimo taglio gigante che dovrò fare No, 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 no. no no vattene a quel paese no 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 va muoviti ok dovrebbero le presi tutti io odio questa mappa è impossibile è impossibile sono qui da quanto 20 minuti 20 minuti e qual è il problema maggiore pensate voi è sarà prendere la roba no è ricordarsi dove l'ho presa e dove non l'ho presa qua l'ho presa qua non riesco a prenderla qua l'ho presa ok sono 8 me ne mancano 7 me ne mancano 6 ciao ciao dov'è il carbone non c'era carbone non c'era carbone dove lo prendo il tuo primi da qua boom boom se almeno potessi vedere sembra tutto molto più comodo sai eccola ecco il pezzo di carbone ok devo andare a prenderlo da di là alto carbone ma quanto cazzo mi manca un bordello di roba allora ecco no no ho perso ho perso il pezzo di carbone ho perso il pezzo di carbone non posso aver perso il pezzo di carbone ero di là 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 eccolo 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 il pezzo di carbone ok e l'ultimo dov'era 10 11 muori male pezzo di merda che mi chiudi sempre nell'angolino no mi manca un lingotto so dov'è ma non ho il carbone per farlo attivare ok non mi ricordo manco più dov'è era in quella zona lì però si manca il carbone ok ora penso di avere più o meno imparato com'è la mappa ma il problema maggiore è che aiuto 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 qua non c'è niente devo andare di qua a sinistra nada guai a te se mi colpisci madana non so dov'è non so dov'è il pezzo di carbone che mi manca non c'è il pezzo di carbone che mi manca eccolo azzurro azzurro vai dall'azzurro madana ste mappe dov'è l'azzurro la vieni vieni vicino vai vai vieni vieni haha bitches ok ora devo solo ricordarmi dov'è la merdata unica dov'è la di qua del grigio ok grigio grigio temporeggia a marabà cicci cocco tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore il dottore si ammalò dammi il cazzo di ferro e vaffanculo sempliciss aia aia signore e signori 99 morti 99 morti eh no eh no non posso andare in quella direzione non capisco eh ok ok capitolo 4 signore e signori c'è point quello spero di si no 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 questa mappa è impossibile marcate le mie parole questa mappa è impossibile mi ha appena detto che praticamente devo è una missione hardcore cioè se muoio si risetta tutto e devo iniziare devo premere sette bottoni nell'ordine che mi da lui altrimenti sono fottuto se ne so ma che bottone è quello eh vabbè vai nella lava vai vai ok ah ma se io per qualche motivo riuscissi a non premere quelle cose sembra una figata assurda ma non è questo il caso ecco il problema mio qual è come faccio a capire qual è il bottone 1 2 3 4 5 6 e vaffanculo a te a nonna e a zia ma cosa faccio se non so l'ordine vabbè 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 fai tutto semplice te ma cos'è questo coso cos'è è un labirinto ah questo è il 2 grazie grazie mille quello è il 2 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 questo è il 3 questo è il 3 questo è il 3 oh mi so dov'è il 2 so dov'è il 3 so dov'è il 4 signore e signori mi sa che questa è cosa dal prossimo episodio perchè ci metteremo un episodio intero a fare sta cagata unica madonna questo è tutto pregate per me che io riesca a finire sta mappa perchè io ho i miei dubbi vi ricordo di lasciare mi piace se vi è piaciuto questo episodio le bagliette sono una figata e niente ciao trututututti ok 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 ok